Un colpo alla gola, assestato con una lama appuntita o forse con un cacciavite, la giugolare tagliata di netto. È stato ucciso così Leonardo Locascio, 38 anni, pratese, portiere di notte in un albergo. Il suo corpo è stato trovato intorno alle 22 di ieri in piazzale Falcone Borsellino, davanti al Palazzo di Giustizia, dopo due telefonati al 112. L'uomo era riverso in una pozza di sangue a qualche passo dalla fermata dell'autobus. Una rapina finita male, secondo i carabinieri che sono arrivati sul posto. Già ieri sera e ancora oggi è la pista più battuta dagli investigatori, convinti che il 38enne si sia imbattuto in un balordo in cerca di qualche soldo. Locascio lavorava come portiere di notte all'Art Hotel Museo di Viale della Repubblica e lì era diretto dopo essere sceso dall'autobus. Lo stesso tratto di strada che percorreva le due-tre sere a settimana in cui faceva servizio. Ieri, stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, il 38enne sarebbe rimasto vittima di un tentativo di rapina, sfociato in una brutale aggressione in risposta, forse, a una reazione che potrebbe aver abbozzato per difendersi. Al momento l'ipotesi più plausibile è questa di una rapina estemporanea avvenuta in un luogo appartato, di sera a quell'ora il luogo è abbastanza isolato. Il fatto che si è al piazzale davanti al tribunale è una spiacevole coincidenza. Un colpo solo alla gola, dato con precisione, Locascio è morto quasi subito, il tempo di percorrere una ventina di metri prima di crollare. Domani l'autopsia disposta dalla procura dirà di più. Gli inquirenti indagano a tutto campo partendo dalle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze del luogo dell'omicidio. Immagini che mostrano un uomo che fugge a piedi mentre si toglie di dosso un giubbotto evidentemente sporco di sangue. Un telefonino e il portafogli, il bottino della rapina. Manca solo questo dallo zaino della vittima trovato a...